Buongiorno e bentornati e benvenuti in mia manale Io sono Dezia, se ancora me lo conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram State lì qui sotto e qui sarà la pagina del filo Come avete letto dal titolo e visto da questi primi clip Oggi vi farò vedere la mia madre di nicotin della quarantena E niente, mi sono appena fatta la doccia E adesso farò un po' di skin care, ma proprio poco a poco Grazie a tutti Ok, adesso per colazione mi farò qualcosa che non ho mai fatto Perché ho un po' di tempo in più per fare qualcosina Quindi farò una apple mac cake E adesso vi dirò la ricetta 40 grammi di farina d'avena 150 ml di albume Un cucchiaino di granella di pistacchio E 100... E 100 grammi di mela E i tiri Imposto un timer di 15 minuti Allora, premetto che ho passato un po' di tempo E se mi avete cambiata ho solo una felpa perché avevo freddo E ho preparato qualcos'altro Perché la ricetta che vi ho fatto vedere adesso Dovrebbe essere cotta al microonde 3 minuti Potenza massima Quindi se l'avete fatela Però a bagnomaria non ve lo consiglio Perché non ha funzionato E qui Non si... Non si è cotto praticamente niente Cioè un po' sì, un po' no Dove arrivava l'acqua no Quindi ho fatto il mio solito frullatone Che è banana, arancia, mela E sopra ci metto le fragoline E niente Adesso lo berrò E poi E... Ci aggiorneremo dopo Adesso è arrivato il momento di fare il letto Perché sennò mi ci butto Niente secondo Allora adesso mi vedete in bagno Perché mi preparerò un pochino Non mi va di truccarmi oggi sinceramente Perché devo dire la verità Io mi trucco solo per registrare video E poi mi preparo Cioè mi metto dei vestiti normali Anche ogni tanto per fare lezioni Altre volte metto dei semplici vestiti per dentro Certo Cioè una tuta e una maglietta larga E niente Quindi oggi farò una cosa veloce Mi metto a posto le sopracciglia Con un semplice pettinino Non faccio niente Ho la batteria che flasha Quindi mi devo sbrigare E poi metto un siero per le ciglia Senza truccarmi Così Sembrano truccate Ma in realtà Sto solo facendo del bene Poi se ho qualche brufoletto O imperfezione Metto una crema che mi ha dato La mia dottorezza La mia dermatologa E quindi non so Dove lo possiate prendere O cosa serve Però è questo qua Ok a questo punto Manca un po' di tempo Prima che inizi le lezioni Quindi faccio qualcosa in più Stavo dicendo Quindi faccio qualcosa in più Che può essere rilassarmi Che può essere fare qualcosa Che ho da fare sulla mia to-do list Ed infatti per oggi Io devo ripassare francese Però quello lo faccio il pomeriggio Puglio della scrivania E poi pianificare un video Quindi farò queste tre cose Però a volte guardo anche Netflix E in questo momento sto guardando Vis a vis E mi sta piacendo un sacco Posso stare su TikTok Per circa un'ora Davvero dipende da quello Che mi va di fare E da Anche da quello Che ho fatto Di solito Dieci minuti prima Della mia video lezione Ogni tanto Se Non mi sento proprio sveglia E penso che Mi addormenterò Durante la video lezione Mi faccio Un cappuccino Quindi Monta Buongiorno Un bravo Un bravo Un bravo Un bravo E niente, di solito la mia morning routine finisce a quest'ora, a l'ora di pranzo, proprio perché ho lezione, dipende un po' dai giorni, vi farò vedere qualcosa qui, comunque dipende, tipo oggi è giovedì, ho iniziato lezione un po' tardi, però ho finito a l'uno. E niente, questo è il video e io ho in mente un po' di cose, ho in mente anche di fare un video su qualche trucchetto per la scuola online, trucchetto non per copiare, intendo trucchetto come farla un po' più semplice diciamo, quindi fatemi sapere qui sotto, qui vedrò se riesco a mettervi un soldaggio. Come sempre seguitemi su Instagram, ho il link qui sotto e qui vi sarà un profilo. E niente, ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!